Caterina Balivo, gelosa di mio marito Guido Brera? Gli sbircio ancora il telefono. Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate della televisione italiana, capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori con il suo programma La Volta Buona. Recentemente, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, in cui si è raccontata tra carriera e vita privata, rivelando dettagli interessanti e aneddoti sulla sua vita. Il percorso professionale di Caterina. Durante l'intervista, Caterina ha parlato del suo percorso professionale, rivelando che inizialmente avrebbe voluto diventare magistrato. Tuttavia, la passione per la comunicazione l'ha portata a intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Riguardo alla sua esperienza con Miss Italia, ha affermato, se arrivare terza è stata un'ingiustizia. Quello sì, assolutamente. Ma non mi ha fatto piacere. Ero comunque arrivata fin lì nonostante i miei genitori lo disapprovassero. Dopo quel momento, le sono state offerte varie opportunità, come partecipare a convention e a un film di Dino Risi. Caterina ha anche condiviso quanto i suoi incontri con grandi maestri dello spettacolo abbiano influenzato la sua carriera. Ha imparato tanto da figure come Fabrizio Frizzi, che le ha insegnato la gentilezza, e Millie Carlucci, che rappresenta per lei la professionalità. Anche Biagio Izzo e Franco Di Mare hanno avuto un impatto significativo, insegnandole l'importanza dell'autocritica e dello studio. La dedizione al lavoro. Caterina ha sempre preso sul serio il suo lavoro, anche quando la salute le ha dato qualche problema. Ha raccontato un episodio particolare durante il primo periodo di Vieni da me, quando pensava di avere un appendicite e, per calmarsi, si faceva fare flebo di Voltaren. In un'altra occasione, nonostante avesse febbre alta, è andata in onda comunque, dimostrando il suo attaccamento al lavoro. L'amore per Guido Maria Brera. Nell'intervista, Caterina ha parlato con grande affetto del marito, Guido Maria Brera, con il quale è sposata dal 2014. Ha raccontato come lui abbia compiuto un gesto d'amore significativo seguendola a Roma, dove Caterina lavora. Nonostante le preoccupazioni che possono sorgere in una relazione, ha scherzato sulla sua gelosia, affermando, il telefono? Una sbirciata la do sempre, ma quello non è controllare, è tenersi aggiornati. Momenti di famiglia. Infine, Caterina ha condiviso i momenti che ama trascorrere con la sua famiglia, in particolare con la figlia Cora. Adora fare gite in bicicletta tutti insieme, anche se ha fatto notare che, per un po', dovranno rinunciare a queste attività perché Cora è troppo grande per stare dietro al padre. Ma troppo piccola per andarci da sola. Caterina Balivo continua a essere una figura amata e rispettata nel panorama televisivo italiano, capace di mantenere un equilibrio tra la carriera e la vita familiare. La sua schiettezza e la sua sincerità la rendono una conduttrice unica, che non ha paura di mostrarsi vulnerabile e autentica con il suo pubblico.